Musica Insieme a Rimas Kaukenas un rientro importante, un ritorno record ancora una volta dopo l'intervento al ginocchio del 2 di dicembre scorso è stato un periodo lungo di riabilitazione Rimas, lo conoscevi bene il percorso perché purtroppo c'eri già passato allora raccontaci un po' come hai vissuto questo periodo dall'operazione fino a questi giorni dove sei tornato ad allenarti con la squadra Per ora ancora non sono rientrato di 100% però sono vicino e sono molto contento che questa cosa sia già in passato più o meno e soprattutto prima di parlare di tutto volevo ringraziare la squadra, la società, allenatori, preparatori soprattutto Filippo Borghi che ha dato il massimo per tutto per aiutarmi a cominciare a allenarsi e poi voglio ringraziare anche il dottore Franco Merlo che ha fatto un miracolo con questo intervento e poi sono molto contento che sono qua in Siena e ho opportunità di ricominciare a giocare, quello è il mio sogno Hai sofferto tanto anche vedendo i tuoi compagni giocare, vivevi le partite quasi come quando eri in panchina veramente sudando tante volte, allenandoti proprio per non vederli in campo giocare una stagione che adesso sta entrando nella fase finale anche nell'occasione del tuo precedente infortuno sei rientrato giusto in tempo per i playoff, anche in questo caso il tuo rientro sarà ovviamente in questo periodo quindi prima dei playoff nel momento più importante dell'anno Sì, per quanto riguarda tutta la situazione è un po' complicata però sono abbastanza contento che possa allenarsi con una squadra un po' di prima di playoff speriamo che possa aumentare la mia forma e arrivare a aiutare la squadra e se posso aiutare in qualche modo sarei molto contento Ha sensazioni? Come ti senti? Anche se ovviamente sei lontano dal 100% perché non giochi partite vere da tanto però ha sensazione? Come ti senti? Carico, è emozionante, la sensazione è molto emozionante Cioè, un paio di giorni fa ho fatto allenamento con la squadra, era proprio... Come il primo giorno? Sì, come... non so, come un sogno veramente... era bello, bello I compagni ti hanno ringraziato per essere tornato, ti hanno fatto i complimenti per essere tornato a disposizione o comunque sia negli allenamenti, credo che sia stato un bel attestato di stima nei tuoi confronti ma anche di amicizia di persone come Nikos, come Sean che ti conoscono da anni Sì, loro sono stato molto... direi molto... hanno scherzato tanto No, però tutti i compagni, tutti i giocatori mi hanno aiutato e sempre salutato, allora senti come è rinato ancora Ma se ti aspetti al primo canestro, cosa potrebbe succedere? Perché il pubblico già sta aspettando da tempo il tuo ritorno e quindi quando segnerai il primo canestro cosa ti aspetti? No, sai, può succedere che non faccio il canestro può succedere che faccio i cinque falli però se questo aiuta la mia squadra, aiuta i miei compagni se ci serve questo aiuto, va bene, faccio così però se faccio il canestro credo che qualche emozione forse si aumenta un po' però alla fine è importante vincere abbiamo visto per la partita di stasera che i ragazzi stanno migliorando e stanno giocando molto meglio Ultimissima cosa, hai detto che ti hanno preso in giro chi è quello che ti ha preso in giro di più? Scommettiamo su Stonebrook, noi non so se perdiamo i nostri soldi Ma tutti, tutti Cosa ti hanno detto? Che eri vecchio? Quello, cioè, come non è scherzo però tutti facevano, prendevano in giro diciamo così Grazie Rimas Grazie 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 a tutti